Ora ed ora il nostro talent del Festival Italia in Musica, sigla. Maria Laura Quattrociocchi, chi abbiamo questa sera in giuria per il talent? Buonasera a tutti, questa sera in giuria abbiamo Antonio Buldini, compositore, arrangiatore dell'etichetta discografica Fabbrica Pinote. A seguire Angelo Petrucetti, compositore, arrangiatore e componente della Little Tony Family. E poi Alessio Romani, musicista, compositore, arrangiatore e produttore per l'etichetta discografica Globbing Music Record. Chi ringraziamo questa settimana? Allora, questa settimana vogliamo ringraziare Loretta Foresti, presidente della Memama, associazione culturale di Bologna, che ha effettuato le selezioni dei concorrenti per la categoria musical. Grazie Maria Laura Quattrociocchi, sempre più bella, più brava, anche signorina, buonasera.